E' iniziato nei giorni scorsi il corso intensivo di matematica e logica organizzato dal servizio tutorato di Unicam con l'intento di consolidare la preparazione degli studenti che intendono accedere ad un corso di laurea scientifico nel prossimo anno accademico. A volte infatti per alcuni studenti la matematica può diventare un problema che fa venire meno l'impegno nel percorso di studi. E' per questo che il servizio tutorato dell'Ateneo in collaborazione con la sezione di matematica organizza da anni questa importante iniziativa che riscuote sempre un grande successo. I ragazzi sono entrati subito nel vivo delle lezioni tenute da docenti e giovani ricercatori Unicam in modalità telematica che termineranno il 15 settembre. E per rendere più agevole l'inserimento nel mondo universitario Unicam propone come di consueto le giornate di ambientamento per le matricole a partire dal prossimo 27 settembre. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito www.unicam.it www.unicam.it